Buonasera nuova edizione del nostro telegiornale che siamo ancora una volta costretti ad aprire con la pandemia che forse sta allentando la presa ma con ancora drammaticamente alto il numero dei decessi che nelle marche nelle ultime 24 ore sono stati 8, 6 uomini e 2 donne tutti con patologie pregresse di età compresa tra i 63 e i 97 anni. I loro comuni di residenza erano Monteranaro, Chiaravalle, Treia, Tolentino, Osimo, Iesi mentre Ancona piange due morti. Il totale dall'inizio dell'emergenza è arrivato a 3.729. Il numero dei nuovi positivi è chiaramente condizionato dal minor numero di tamponi processati nella giornata festiva e sono stati 860. L'incidenza dopo 11 giorni consecutivi in discesa oggi torna lievemente a salire e si attesta a 1025,57 casi settimanali ogni 100.000 abitanti. 255 invece ricoverati complessivi di cui 10 nelle terapie intensive. In questo quadro con grandi luci ed ombre resta la necessità di proteggere le persone più fragili. Questa la sintesi dell'intervista che il nostro Giovanni Filosa ha realizzato con il virologo della San Raffaele di Milano, Massimo Clementi. Sentiamo. Questo è lo stato dell'arte. A ieri, domenica, 3. Infettato un macchigiano su 4, però ha finito lo stato d'emergenza. La pandemia sembra sotto controllo anche se i contagi aumentano. 3.715 circa morti dal marzo 2020 ad oggi. Benissimo, sono finite anche le restrizioni, ma c'è qualcosa da fare ancora secondo Massimo Clementi oppure possiamo andare benissimo a fare tutto quello che vogliamo? No, c'è da avere un'attenzione personale a varie cose, a parte che ancora la mascherina chiusa la dobbiamo mantenere. Io personalmente la manterrò ancora per un po' perché voglio capire come andranno le cose, soprattutto quando mi trovo in situazioni di sovraffollamento. Però al di là di questo, la situazione è oggettivamente in via di risoluzione. Noi abbiamo un'infezione che è cambiata dal punto di vista clinico, è molto meno pesante per le strutture cliniche. Oggi negli ospedali si contano più 68 ricoveri positivi per il Covid, ma meno 4 nelle terapie intensive. La variante Omicron si è stabilizzata, è diventata la variante prevalente, successivamente c'è stata un'evoluzione, c'è stata una variante Omicron 2 più diffusiva. Adesso ce n'è una terza che viene definita XE che ha infettato 600 persone in Gran Bretagna, dove c'è un'attenzione veramente molto attenta all'evoluzione di questo virus. Ma ancora non sappiamo dire se questa terza variante prenderà il sopravvento, ma in ogni caso è una variante nel solco Omicron. Il che vuol dire che è una variante che non cambierà il paradigma dell'infezione, che è un'infezione delle vie aeree alte e non delle vie aeree basse, quindi comunque un'infezione che prevarrà nei giorni. Quindi riniti, mal di gola, eccetera. Mal di gola, riniti, eccetera, come la maggioranza delle persone che ha. Ovviamente dobbiamo proteggere, come abbiamo sempre fatto peraltro, nelle epidemie influenzali, le persone fragili, cioè quelli che hanno altre patologie o che per motivi di età richiedono un'attenzione particolare. Si tratterà, e questo sarà veramente importante, vedere se il virus diventerà un virus stagionale che ci darà qualche fastidio nei primi mesi dell'autunno-inverno, ma non sarà più così diffusivo oppure no. Quindi questo sarà l'aspetto importante da valutare nel futuro. CGL, CISL, UIL, capo nazisti, traditori del popolo e del diritto al lavoro. La scritta con la vernice spray rossa è stata trovata stamattina fuori dalle sedi della CGL Marche e della Camera del Lavoro di Ancona, bandalizzate con scritte inaccettabili e deliranti su muri, colonne e vetrate. Solidarietà è stata espressa da più fronti. Passiamo alla cronaca. Dramma stamana a Pianello Vallesina. Un uomo dipendente scolastico si sarebbe tolto la vita nella sua abitazione di campagna. I gnoti al momento i motivi che lo hanno portato a compiere un gesto così estremo. Botte e insulti alla compagna convivente che aveva rifiutato un rapporto sessuale fino a colpirla con una scarpa, prenderla per i capelli e procurarle la lacerazione del tendine di un dito della mano. La donna, una 38enne del Bangladesh, è riuscita a chiudersi a chiave in bagno e a chiamare i carabinieri che a loro arrivo hanno trovato l'uomo, un 35enne compatriota della donna, operaio presso un cantiere navale del Pesarese, nudo ed ubriaco. È successo la scorsa notte a Falconara. L'aggressore, non nuovo ad episodi del genere, è stato arrestato dai carabinieri e chiuso nel carcere di Montacuto con le accuse di maltrattamenti e lesioni personali. Lei è stata subito accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette dove l'è stata riscontrata la lacerazione del tendine del quinto dito della mano destra con prognosi di circa 20 giorni. E torniamo al Trave, quartiere di Fano, stretto dalla morsa del traffico con i residenti che hanno attuato una nuova forma di protesta. Camilla Cataldo. Il cimitero delle auto è l'ultima trovata dei residenti di Via della Trave, un quartiere di Fano dove si è ormai allo sfinimento per le modifiche stradali apportate dall'amministrazione comunale. Prima il restringimento delle carreggiate, poi le rotatorie e la nuova segnaletica. proteste e insoddisfazione continuano, tanti pericoli e disagi rappresentati anche dalla alta velocità dei mezzi, è difficile pure entrare nelle proprie abitazioni. Da troppo tempo si va avanti così. Per tutti è diventato complicato circolare e questa volta Ultima Razio si è deciso di esporre una bancarella con, in bella mostra si fa per dire, i simboli del degrado, i pezzi delle auto rotte negli ultimi due mesi e caduti sull'asfalto. Giorgio Francolini, ci avete provato in tutti i modi, il cimitero delle auto è l'ultimo tentativo per far sentire la vostra voce? Sicuramente, sì, da parte mia è l'ultimo, non voglio fare la fine di Don Quixote, anche perché stamattina sono venute alcune persone e li ringrazio, residenti. Il problema è talmente, lo capiscono tutti, meno che l'amministrazione comunale, sono degli incompetenti e non so cosa stanno a fare lì ancora. Che cosa ha raccolto in questi due mesi? Allora, guarda, questo è solo il 5% degli incidenti dovuti alla velocità, solo il 5%, perché vanno a 80, 90, 100 euro, perché si rompe un cemento? Se vai a 30 euro, come hanno scritto, il cemento non si rompe, si sporca. Non ci hanno ascoltato, ma quello che è brutto, e da Fanese lo dico, da Fanese Doc, quello che è brutto è che non hanno verificato, fai un lavoro, verifica se il lavoro ha dato le soluzioni, ha dato quello che volevi, no? Niente, niente. Signora Ambretta Piergiovani, un'altra residente, quali sono le soluzioni per cercare di ovviare a questi disagi che continuano da tantissimo tempo? Sicuramente cominciare a togliere tutti questi restringimenti già potrebbe essere una buona cosa. È una via storica che invece è percorsa anche dal traffico pesante, purtroppo? È una via storica sicuramente, e non è certo migliorata con questa amministrazione, nella maniera più assoluta, anzi è stata peggiorata, perché veramente qui ancora ci sono tutte queste casine come erano una volta, adesso tra i cartelli storti, tra questi restringimenti io dico che peggio di così non so chi poteva fare. I cordoli gialli sono diventati neri per il passaggio delle auto? Per forza i cordoli gialli sono diventati neri, perché sono dei restringimenti impossibili. Sandra Giorgi, che cosa chiedete all'amministrazione? Chiedo all'amministrazione che si tolgano queste cose qui, perché queste non servono a niente, non servono a niente, perché quelli che vengono su, che ti devono dare la precedenza, non si fermano mai, tocca fermarsi sempre i più coion, quelli che vengono giù dalla parte dell'auto. In più la rotatoria lassù, che è la rotatoria della Barbie, anche quella è lì, come si fa? Quelli del fenile che vengono giù dalla trave non si ferma nessuno. Quel camion che vengono su, se stai attento, ti prende per dietro, non è possibile. La pista che vogliono fare gli interquartieri, anche quella malade vogliono rovinare. Quanto un bambino va a giocare, va a fare un giretto in bicicletta, il nepotice, l'avrà il sindaco, l'assessora, quanti è cresciuto il bambino, un bambino non ce lo puoi più mandare, perché? Perché passa un camion e porta via. I vigili del fuoco hanno recuperato ieri sul monte Brisighella, nel parco naturale del monte San Bartolo, a Pesaro, un cane labrador del peso di circa 40 kg, caduto in un dirupo ad una profondità di circa 10 metri dalla strada principale. La squadra intervenuta ha utilizzato tecniche speleoalpino fluviali per recuperare l'animale che è stato riconsegnato in ottima salute al proprietario. Dopo aver contattato telefonicamente la vittima, titolare di una rivendita di sali e tabacchi, qualificandosi come sedicente dipendente della società lottomatica, era riuscita a farsi accreditare sulla propria carta post-pay la somma di quasi 6.000 euro. È solo una delle truffe online scoperte dai carabinieri della compagnia di Ancona. Al termine di un'attività di indagine hanno denunciato in stato di libertà per il reato di truffa 5 persone, tutte residenti in altre province, di cui 4 gravate da precedenti di polizia. In tre distinti casi le persone denunciate hanno usato la stessa tecnica, simulando di voler procedere all'acquisto di alcuni beni posti in vendita su un sito internet specializzato. In realtà con artifici e raggiri sono riusciti a farsi accreditare con spicque somme di denaro dalle ignale vittime. Ultime battute per Tipicità Festival 2022, tornata finalmente in presenza Manolita Scocco. Finalmente basterebbe solo questa parola pronunciata di cuore dal governatore delle Marche Francesco Acquaroli, ben scandita, quasi una liberazione, per descrivere la voglia di tornare a socializzare tra i padiglioni del Fermo Forum grazie all'edizione 2022 di Tipicità che sabato mattina ha vissuto il suo momento istituzionale più importante con il taglio del nastro di una tre giorni di Kermesse che fa di fermo la capitale dell'enogastronomia, della cultura del saper fare, della sapienza e del lavoro che parte dai campi e con i suoi prodotti arriva sulle tavole di tutto il mondo. Finalmente in presenza, tipicità, tanto entusiasmo, tanta voglia di normalità e soprattutto tanta eccellenza che rappresenta la nostra regione. Quindi è un grande orgoglio, soprattutto oggi che ha visto proprio ieri un riconoscimento importante per il vigisgrasso maceratese che è un piatto tipico che ha raggiunto l'eccellenza europea e quindi uno dei quattro prodotti italiani riconosciuti. E Tipicità raggiunge nel suo lungo cammino di crescita quota 30. Tante infatti sono le edizioni del più importante evento enogastronomico su scala locale ma che nel corso degli anni ha acquisito valore anche a livello internazionale. Ancora una volta tipicità e quest'anno non era affatto scontato, ha fatto centro riportando non solo il grande pubblico in fiera ma riallacciando quei rapporti che per oltre due anni sono stati in piedi solo grazie alla professionalità e alla caparbietà degli ideatori e organizzatori. Sì, finalmente ci siamo, l'abbiamo aspettato tanto questo momento, è stato particolarmente agognato e al di là del fatto che riprendiamo Tipicità, riprendiamo la manifestazione, è un segnale forte di ripartenza che lo vediamo sia nei presenti, negli espositori che hanno riempito questo padiglione, ma lo vediamo anche nella gente che ha voglia di ripartire. Ancora brevi di cronaca, per soccorrere una donna caduta in casa e rimasta bloccata per due giorni, i soccorritori hanno dovuto letteralmente aprirsi un varco tra gli oggetti accumulati, è successo ieri sera ad Ancona in un'abitazione di Corso Carlo Alberto, una volta ricevuta la richiesta di soccorso sul posto sono arrivate un'ambulanza della Croce Gialla, un'auto medica del 118 e per l'apertura della porta vigili del fuoco e carabinieri, una volta dentro però hanno dovuto creare un percorso all'interno dell'appartamento strapieno per raggiungerla, la 65enne è stata trasportata a Torrette, le sue condizioni non sono gravi. Tre adolescenti anconetani, tutti sotto i 14 anni, sono stati identificati come i responsabili dell'atto vandalico commesso sabato pomeriggio ai danni del pallone geodetico di via Scandale a Camerano, fatto oggetto di un violento lancio di pietre proprio mentre all'interno si stava disputando una partita di pallavolo. Il branco di ragazzini è scappato ma è stato bloccato dagli agenti della municipale, essendo minori le famiglie sono state contattate e messe al corrente dei fatti. I percettori dell'arreddito di cittadinanza per tenere pulita Pesaro, un progetto innovativo di cui ci parla in questo servizio Camilla Cataldo. E' una delle prime iniziative in Italia, quella lanciata dal comune di Pesaro per il progetto Teniamo pulita la città e valorizzazione verde pubblico. L'obiettivo è quello di potenziare la cura del territorio aumentandone la qualità, il tutto grazie ai percettori del reddito di cittadinanza che per 12 mesi provvederanno a pulire le zone più frequentate. Si va a incentivare il lavoro di Marche Multiservizi, supportandolo. E' importante essere attivi per la comunità, la città è patrimonio di tutti. Tutti contribuiscono a renderla più bella e vivibile. E' un lavoro di squadra. Assessore Enzo Belloni, quanti sono i pesares impegnati in questo progetto e in quali zone operano? Allora, noi siamo partiti qualche settimana fa con una delibera di giunta per richiedere 51 unità di percettori del reddito di cittadinanza. Il nostro obiettivo è quello di collaborare assieme al centro operativo comunale, all'Aspes, a Marche Multiservizi, per rendere la città ancora più pulita. Un progetto ambizioso che ci vedrà mettere in campo da qui ai prossimi mesi 25 squadre, composte da due elementi ciascuno, ognuna delle quali avrà in cura un pezzo di città. Le prime due squadre partite sono quelle che lavoreranno in zona Parco Miralfiori, Sottopasso dei Cappuccini e Monumento della Resistenza, fino all'ospedale. Sono squadre che lavorano in coppia perché il loro impegno è per 8 ore settimanali, quindi oggettivamente saranno impegnate lunedì e giovedì una squadra, martedì e venerdì l'altra squadra. Subito dopo Pasqua entreranno a regime altre 5 squadre e saranno impegnate in prima battuta sulla zona del centro mare, Soria, Baia Flaminia e Porto, quindi le zone dedicate al turismo. Andando avanti poi avremo anche gruppi di lavoro che interverranno a rotazione sui vari quartieri. E' un lavoro difficile reclutare i percettori del retto di cittadinanza perché ci sono colloqui, quindi c'è un'interazione tra job, servizi sociali del comune che stanno facendo un lavoro egregio perché noi dobbiamo mettere sulla strada uomini e donne che hanno le caratteristiche per fare questo lavoro, che è un lavoro che non è difficile, però ci vuole come sempre con il pubblico educazione e rispetto di tutti. Hanno delle divise riconoscibili fornite da Marche Multiservizi, è comunque un intervento di valore inclusivo per favorire la crescita personale e la socialità? Sì, devo dire che è anche un'opportunità forse per ritagliarsi uno spazio nel loro futuro. Ci sono già alcune cooperative che ci hanno chiesto i nominativi di quelli che hanno aderito al progetto perché magari, visto che tutti cercano il lavoro, ma molte aziende cercano lavoratori, questo qui può essere anche uno strumento per riuscire a mettere forze in campo, quindi ridare nuove energie e speranze ai tanti che percepiscono questo reddito di cittadinanza. Riscoprire la bellezza del paesaggio piceno e il suo stretto rapporto con i borghi che ne punteggiano le colline è l'obiettivo dell'iniziativa con il FAI tra Borghi e Calanchi, promossa dal gruppo FAI Giovani di San Benedetto del Tronto. Una serie di quattro passeggiate che a partire dal primo appuntamento in programma domenica prossima da Pignano del Tronto permetteranno di percorrere a piedi itinerari nella storia di Borghi Piceni e nelle campagne circostanti, seguendo il filo conduttore dei Calanchi, fenomeno geologico di grande fascino che accomuna quest'area. Nuovo seminario informativo di Confagricoltura Picena Servizio a Forca di Montegallo. I dettagli nel servizio di Mario Larocca. Settimo appuntamento con Confagricoltura presso la comunanza agraria di Forca di Montegallo. Tema dell'incontro il castagno. Ne abbiamo parlato con l'agronomo Tommaso Ciriaci. Allora, questo è uno dei tanti appuntamenti che abbiamo organizzato in questo periodo dell'anno. Siamo appunto al settimo dei 19. L'argomento è molto sensibile per queste zone perché parleremo delle avversità che colpiscono il castagneto da frutto che è uno degli elementi secondo noi importanti per dare rilancio al territorio che colpito dal sisma prima e poi da tutti gli eventi che noi conosciamo sta perdendo gran parte della propria popolazione. Per far tornare queste zone ad essere vive e attive è necessario trovare attività produttive che permettano alle persone di vivere e di lavorare. Il castagneto secondo noi è uno di quegli elementi fondamentali. Quindi l'informazione che è appunto la misura 1.2 del PSR Marche serve proprio a dare nozioni agli agricoltori che vogliono intraprendere e recuperare questa attività. Ma quali sono le malattie che possono avere queste piante? Ci sono delle soluzioni? Ne abbiamo parlato con il professor Sergio Murolo dell'Università Politecnica delle Marche. Allora le principali malattie sono sicuramente il mal dell'inchiostro che è una problematica che attacca le radici, l'apparato radicale e nel giro di qualche anno può far purtroppo seccare una pianta non solo giovane ma anche secolare. Poi ci sono altre malattie come il cancro corticale del castagno con cui ormai i castanicoltori hanno imparato a convivere. Purtroppo recentemente anche con il discorso dei cambiamenti climatici ci sono delle perdite di produzione legate proprio al marciume dei frutti. Questo sicuramente è un problema che deve essere affrontato e si stanno cercando dei rimedi, non sempre è facile trovarli. Il problema più grosso è che questo tipo di alterazione dei frutti viene riscontrato dal consumatore. Quindi il produttore le vende anche in modo inconsapevole poi invece chi le consumerà poi tagliandole scopre che purtroppo ci sono questo tipo di problematiche. C'è una soluzione? Allora per questo l'Università Politecnica delle Marche sta cercando di fare squadra insieme alle associazioni di produttori, agli stessi castanicoltori, ma anche col supporto della Regione. Stiamo cercando di fare, realizzare dei progetti proprio che vadano in questa direzione. Non sempre è facile trovare la soluzione, però perlomeno si cerca di fare squadra. L'importanza per il territorio di Montegallo, la possibilità del rilancio di un territorio ancora ferito. Noi siamo davvero contenti di questo convegno. È uno dei tanti convegni che abbiamo ospitato come comunanza agraria perché appunto crediamo che il castagneto, la castanicoltura sia davvero importante per i nostri territori e siano un volano di rilancio dell'economia locale. Parlava prima il professore, parlava soprattutto di mancanza di mano d'opera, di giovani, soprattutto di ricambi generazionali che si possano occupare di queste piante. Esatto, questo è un problema che purtroppo viviamo anche noi nei castagneti. La mano d'opera oggi è difficile da trovare, il ricambio generazionale è difficile, ma noi stiamo facendo squadra e stiamo sempre di più coinvolgendo i giovani e speriamo di riportarli sul territorio e di riavvicinarli alle castagne e alla castanicoltura. E siamo allo sport, capriamo con il calcio. Il Montegiorgio ha comunicato stamattina di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Fabio Brini dopo l'esonero di Eddimengo maturato dopo la sconfitta di Castelfidardo. Per Brini si tratta di un ritorno. Proprio al Tamburini ebbe inizio la sua carriera di allenatore nel 94-95 prima di spiccare il volo verso i professionisti. Nel suo curriculum, sempre tra B e C, tante piazze storiche, tra cui Ancona, Foggia, Taranto, Terni, Martina Franca, Salerno, Crema, Carpi, Benevento, Pavia e Fano. Oggi primo allenamento con la squadra in vista del recupero casalingo di mercoledì con il Nereto. Nella pallavolo, la Megabox, Vallefoglia ha concluso sabato la sua stagione, ma ha messo il primo fondamentale tassello per la prossima, ossia la conferma di Tatiana Cosceleva, la schiacciatrice russa 33enne, vero valore aggiunto, delle Biancoverdi. Manolita Scocco. La Megabox ondulati del Sabio Vallefoglia riparte dalla propria capitana, Tatiana Cosceleva. Come annunciato al termine dell'ultima partita di campionato con l'Acqua e Sapone Roma, il presidente Ivano Angeli giocherà con la maglia Biancoverde anche nel prossimo campionato di Serie A1. La schiacciatrice russa, protagonista assoluta della stagione della squadra, prima del grave infortunio occorsole nel finale del quarto set della partita con la Prosecco d'Occhi Moco Conegliano del 23 febbraio scorso, si è unita alla felicità del presidente Ivano Angeli, manifestando la propria soddisfazione per l'accordo. Sono molto felice di giocare a Vallefoglia anche l'anno prossimo, mi sono trovata molto bene qui e sono felice di continuare a giocare con questa società e questa squadra. Ho avuto grande appoggio da tutti loro nel momento più difficile, tutti mi sono stati vicini e dato tanto affetto e supporto. Sono molto orgogliosa di portare ancora questa maglia, ringrazio ancora tutti i nostri tifosi per l'appoggio che mi hanno dato. La fase di riabilitazione sta procedendo bene, lavoro molto duramente tutti i giorni, ora tornerò in Turchia a continuare a svolgere il lavoro con il medico che mi segue. Tenevo molto ad essere con le mie compagne in questo momento così importante e sono molto orgogliosa di questo gruppo. È il primo fondamentale tassello della nuova stagione che dunque in casa Megabox è già iniziata. E la Lube intanto è approdata nella semifinale di Superlega dopo il 3-1 con il quale ha espugnato Monza, risolvendo al meglio una partita difficile contro un avversario che ha comunque gettato in campo tutte le risorse a sua disposizione. Iniziano bene i quarti di finale per la CBF Balducci in A2 con il 3-1 contro Sassuolo che rappresenta un'ulteriore conferma delle potenzialità delle ragazze di Paniconi. Penultima di regular season in A3 maschile con un bel trist di successi per Videx, Mestore e soprattutto per la Vigila Alfano che ha rifilato un netto 3-0 alla forte Abba Pineto. E vediamo le previsioni meteo per martedì 5 aprile. Amici Trevi Meteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì che vedrà un temporaneo miglioramento un po' in tutta Italia, pressione atmosferica in aumento ma questo sistema nuvoloso presente nel sud della penisola iberica piano piano si muove verso l'Italia ci raggiungerà tra mercoledì e giovedì soprattutto al centro-sud. Ma entriamo più nel dettaglio per quanto riguarda le nuvole di questo martedì ecco tornano ampi e schierite anche nelle regioni centro-meridionali. Qualche residuo annuvolamento si farà vedere al sud e intanto piano piano si avvicina la perturbazione dalla Spagna. precipitazioni quasi del tutto assenti qualche gocciolina potrà cadere nelle zone interne delle regioni meridionali peninsulari a inizio giornata ma poi situazioni in netto miglioramento anche lì quindi in definitiva ci attendo un martedì bello solo con qualche residuo annuvolamento diciamo nel sud peninsulare specie a inizio giornata e tra l'altro temperature in aumento massime che si riavvicinano ai 20 gradi fa però ancora freddo di notte a primo mattino per tutti i dettagli comunque sulle vostre località scaricate e consultate l'app di Trebi Meteo Sarà Matteo Gariglia ad arbitrare il match Monza-Ascoli in programma mercoledì alle 19 all'U-Power Stadium per la 33esima giornata del campionato di B il 34enne fischietto della sezione di Penerolo sarà coadiuvato dagli assistenti Salvatore Longo di Paola ed Edoardo Raspollini di Livorno e nel basket l'impresa di sabato della Carpegna Presciutto che è andata a vincere sul difficile campo di Tortona guadagnando due punti fondamentali in chiave salvezza potrà essere rivista questa sera alle 22 sul nostro canale 13 è tutto con il telegiornale grazie per la cortesa attenzione a domani